E' notte fonda ormai, e Osvaldo non ritorna. Che cosa gli sarà successo, Santa Sara? Aiutalo tu. Mi rivolgo anche a te, Madonna dei Gorghios. Non è mai venuto così tardi. E se non tornasse? Dove vai, soldatino? Non credere di passartela liscia. Via, lasciatemi passare. Certamente, però prima dovrai darci tutti i soldi che hai con te, bell'imbusto. Non sono soldi miei, ma della moglie del mio capitano. Senti, amico mio, fossero anche della tua nonna buonanima, tu ce li dai. E non farci perdere la pazienza. Prendiamolo! Ecco qua i soldi.